Preso rimbalzo, diciamo, allarga il campo, fa correre tutti i giocatori vicino ai laterali e lascia tutta la corsia centrale al playmaker per attaccare il ferro. Rubata di Bowers contro piede e la Rayer riesce in qualche modo a ripagare Brindisi con la stessa moneta. 14 Rayer, 17 Brindisi però... Rosselli per Bowers contro Gibson, Clark, ancora Rosselli. Cerca di far muovere la difesa avversaria a Venezia. Bowers si accentra, lo scarico per Rosselli, palla proprio per Bowers, ottima combinazione tra i due. Sì, ottima, ottima combinazione, sempre bravo Rosselli, ha una capacità di lettura della difesa, di trovare degli esterni di casa e chi latita ancora un pochino è Clark, soprattutto in fase realizzativa. Ecco, lo Clark è la penetrazione, lo scarico per Bowers, ottima scelta di Clark. Poi ovviamente intendo non tanto che lui debba tirare ma debba... Robinson, il movimento ancora un tiro corto da parte degli esterni Brindisini. Bowers la penetrazione fa tutto da solo, grande iniziativa. Grande, grande giocata veramente di tecnica, di classe, di intelligenza, molto bene. La Reier padrona del campo ora, l'ultimo possesso del terzo quarto per l'umana, Bulleri, la penetrazione, lo scarico per Rosselli, la palla dentro per Bowers, il canestro di Bowers. È davvero la fotografia di questo terzo quarto in questa azione con i giocatori della Reier a cercarsi con i passaggi. Pallo in attacco, piuttosto banale. Comunque, otto punti vantaggio, un minuto a fine, ancora vedremo la Reier utilizzare tutti i 24 secondi. Scherzik per Bowers, altro canestro di Bowers. E con questo possiamo tranquillamente dire migliore in campo di Bowers. Direi di sì.